Buongiorno a tutti, allora magliettina nerazzurra maniche corte perché ormai l'estate sta arrivando e quindi ci vuole la magliettina maniche corte. Comunque, visto che qualcuno mi ha detto eh Gigi visto che scrivi su Interlive ogni tanto potresti anche raccontarci qualcuno dei tuoi pezzi che hai scritto eccetera. E allora ho pensato bene, visto che Il Fatto Quotidiano ha intervistato il buon Massimo Moratti e io ho ripreso l'intervista e l'ho messa sul sito, andiamo a vedere che cosa ha detto l'ex presidente Massimo Moratti cercherò di romanzarla come sempre, metterci un po' di pepe come si suol dire, aggiungendo un po' di mie cavolatine alle sue, all'intervista. Comunque l'ex presidente dell'Inter Massimo Moratti ha voluto dare la sua opinione sulla sua esquadra, intervistato da Il Fatto Quotidiano e ne ha approfittato per parlare del passato suo e di suo padre nel club Beneghino. Gli hanno chiesto se è preoccupato della situazione attuale e lui ha spiegato, sì, la preoccupazione c'è per forza, questi signori sono arrivati, hanno speso e costruito una grande squadra, deve essere successo qualcosa di grave in Cina, li hanno obbligati a mollare le attività. Steven Zhang vuole mantenere il passo, ma per quanto tempo, punto di domanda, ed è la domanda che si stanno facendo anche tutti gli interisti, perché sentire, hai costruito il castello e adesso lo vuoi demolire, come uno che costruisce il grattacielo di 100 piani e dice no, adesso 50 piani li eliminiamo, eh, non va mica bene. Gli hanno domandato anche un paere sull'azionariato popolare creato da Cottarelli o che ha intenzione di creare Cottarelli e lui ha detto credo che ci siano tanti tifosi interisti ricchi che poi ci mettano soldi è difficile e poi la quantità di soldi. Iniziative così ci sono anche in Germania e Spagna, ma hanno una nascita politica e storica diversa. Le cifre di cui l'Inter ha bisogno non si raggiungono facilmente con queste organizzazioni. Comunque lo prendo come un atto di buona volontà. Ecco, insomma, qualcuno dei nostri club diceva 100 euro a testa, un milione di tifosi, hai raggiunto 100 milioni. Il problema è che con questi chiari di luna gente che può buttare tra virgolette via 100 euro. Non è che ce n'è tanta, eh? Comunque, staremo a vedere cosa combinerà il buon Cottarelli. Naturalmente gli hanno domandato un parere sulla Superlega e lui ha spiegato. Se è una via d'uscita lo è solo per poche squadre, cioè per chi partecipa. Se ne parla da anni, non è una novità. Non capisco come mai sia partita e finita così male. Se anche volessero ripresentarla, adesso sarebbe molto più difficile. E in effetti forse la Superlega era diventata una cosa solo per pochi eletti, come si suol dire. Non una cosa meritocratica, ma si decideva tu sì, tu no, tu sì, tu no, tu sì, tu no, tu mi stai sulle balle, no. Quella squadra lì no perché non ci interessa, ma quella squadra lì sta facendo, è quella che gioca meglio in Italia, è quella che sta facendo bene, che fa niente, ma non ha storia. Solo le squadre che hanno storia. E quindi non andava bene. Sicuramente hanno potuto dare un input, ma ripeto, se vogliono più soldi per la Champions eccetera, prendano più sponsorizzazioni, si facciano pagare di più dalle reti televisive, non si tengano i soldi per aumentarsi gli stipendi perché vedere dei dirigenti UEFA che prendono neanche fossero dei multipresidenti di una super multinazionale che fattura fior di miliardi eccetera, di soldi a fare curucù. Altra domanda che hanno fatto al buon Moratti. Gli hanno chiesto se è vero che la sua famiglia amava avere un rapporto speciale con i calciatori e lui ha detto forse più ai tempi del mio papà. Alcuni calciatori mi chiamavano papà e la cosa non mi andava e lo dice ridendo. Lo facevano soprattutto Materazzi e Detò erano affettuosi. Queste le parole di Massimo Moratti. I calciatori ormai sono giovani e soprattutto ricchissimi. Come si fa a convincerli a fare una vita d'atleta? Hanno chiesto al buon Moratti e lui ha risposto. Faccio fatica a limitare la libertà degli altri. Cercavamo di farli sentire responsabili verso i tifosi. Veniamo a una domanda che invece esula dal calcio ma che riguarda la Saras, la società di famiglia e come se la immagina tra dieci anni. Queste le parole del presidente, dell'ex presidente. Io credo che adesso ci sia un mondo da costruire e di questo si ha paura. Sul nuovo bisogna avere un coraggio notevole. Durante la pandemia la crisi porta ad essere conservatori e invece adesso ci si è buttati totalmente sul nuovo, specialmente nell'ambito dell'energia. Ci saranno grandi trasformazioni e in effetti sentivo che nel nord, nel paese nordici già stanno facendo le macchine a idrogeno che tra l'altro non inquinano, ma anzi l'idrogeno crea qualcosa di positivo. Vedremo se anche altri seguiranno questa scelta. Ci sono già anche i benzinai predisposti con la cosa a idrogeno. Due minuti carichi subito la questione. Vedremo, vedremo. Proseguiamo sulla questione stadio. Perché gli hanno chiesto si avrebbe voluto comprare o abbattere il meazza e lui ha risposto. Avrei voluto comprarlo e renderlo moderno. La gente va allo stadio per la partita. In fin dei conti si va lì con uno scopo preciso e San Siro è il migliore per questo. In effetti uno stadio come il meazza, vedi benissimo ovunque sei. Secondo anello, primo anello, centrale, non centrale eccetera. Vedi benissimo. L'unico posto in cui magari vedi un po' meno, ma perché comunque è particolare, è in curva perché si è tutti in piedi, si fa casino eccetera. E quindi magari la gente più preoccupata a fare il tifo che non ha. Dal tonno in curva ci sono state e ci dicevano spesso cosa pensate di essere venuti qui a vedere la partita. Voi dovete tifare. Dovete tifare, come diceva qualcuno. Ma proseguiamo. Gli hanno domandato se teme che il covid possa ridimensionare il calcio. E lui ha detto. Credo di sì. L'unica strada è quella. è quella. Se non inventano altri tornei, perché volendo, bisogna limitare i compensi. È quello che stanno cercando di fare tutti, ma finché ci sono società che strapagano i giocatori e pur di averli, li riempiono di petrol dollari, sta cosa qui non si può fare. O le società si mettono d'accordo e dicono un giocatore, a meno che non sono i top player, quei 4 o 5 eletti, ma gli altri è giusto pagarli con un massimo 8 milioni. Che credo che sia già una cifra più che dignitosa per qualsiasi. Cioè 10 anni a 8 milioni all'anno ti porti a casa 80 milioni. Cioè vivi tu la tua famiglia, quei tuoi nipoti, i pronipoti, i nipoti dei nipoti dei nipoti, eccetera. Poi vabbè se ti compri 250 macchine è un altro discorso. Domandina sulla questione Conte e sul suo addio. E l'espatrono ha spiegato. Mancanza di sfida, di sfida, sfida, non di sfiga, di sfida e di attaccamento. Anche se è un professionista serio e ha fatto benissimo. Ma una forte mancanza di attaccamento. L'ultima domanda riguardato Alvaro Recoba. E gli hanno chiesto come mai molti pensano che sia stato il suo calciatore preferito. E lui ha detto. Recoba era il più sorprendente. Di Ronaldo sapevi quanto fosse fantastico. La persona che mi ha venduto Recoba mi disse. Alla prima partita farà cadere lo stadio. E contro il Brescia andò proprio così. Il guaio era che era un po' pigro. Bene ragazzoli, spero che questa mia interpretazione dell'intervista a Moratti vi sia piaciuta. Io vi saluto, vi ringrazio. E niente, adesso andrò a fare la mia seratina, poi più tardi mangio con calma. Stamattina mi sono trovato tre passerotti in casa, tre passerottini in casa. Non so come cavolo hanno fatto ad arrivarmi in casa tre passerotti. Comunque li ho adagiati sul balconcino e sono svolazzati via. Perché i passerotti io non li ammazzo mica. Detto questo, ci vediamo alla prossima. Ciao!